Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Ma ora Cristo è risuscitato dai morti, in primizia di tutti quelli che dormono. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Poiché, come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Ma ciascuno nel suo proprio ordine, Cristo la primizia. Poi, quelli che sono di Cristo, alla sua venuta. Poi verrà la fine, quando Egli avrà rimesso il regno nelle mani di Dio Padre, sì, nelle Sue mani, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà ed ogni potenza, poiché bisogna che Egli regni finché abbia messo tutti i Suoi nemici sotto i Suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto di Dio Padre, sarà la morte.